Ciao Come? Lì c'è anche la targa se ti interessa Ok, ok Sei indipendente? Sì, sì, dimmi tutto Ok, mi puoi dire nome e cognome? E perché? Perché sono l'avvocato del Bennis, ti sto facendo il documento lavorativo Ah no, sono già a posto, grazie Ah ce l'hai già? Sì, sono meccanico esperto io Ok, ma chi te lo ha fatto? Me l'ha fatto Montecchi Ah sì, allora me lo dia lo stesso perché Montecchi diciamo che è sotto processo Ah Sì Ehm, va bene Aspetti, eh? Allora Eh vabbè, dopo qui mi ha fatto il documento, è buono Guido, Michelangelo, perpega Michelangelo, Michelangelo Ok, arrivo subito, allora Le faccio il documento e io lo passo Ah, quindi quello vecchio... Eh, si è annullato Ah, quindi quando un avvocato è sotto processo i suoi documenti non valgono più? No, no, tu hai proprio il documento lavorativo? Sì Posso vederlo? Certo Io qui ho fatto una strozzata, non dovevo farglielo vedere Eh sì Eh che cazzo ne so io Grazie Vabbè qui ma l'ha guardato Ehm, allora Dov'è che ce l'ho? Documenti lavorativi Documenti salvati Salvati Mostra Eh, 672 no? Sì Allora Eh, ha validità di un mese ma non dice, sì sì te lo devo rifare Ok, allora Ma li posso eliminare io? Cosa? Questa roba qui? Eh, ci trovi, non so se ci riesci Vabbè, vado... Continuo? No, è fallita Eh, vedi un po' che altro dici Ah no niente, dopo mi ha fatto il documento Ma quindi lo devo rifare ogni mese? Eh, sì, ogni mese scade Ma va un po' più avanti, va a vedere Ma va un po' più avanti, va a vedere